XT-101BT di Trevi è il nuovo modo di ascoltare la tua musica preferita. È un altoparlante verticale a torre, un sistema audio amplificato ideale per l'intrattenimento a tutto tondo. Con XT-101BT, grazie ai suoi 40 Watt, potrai amplificare l'audio della tua TV, ascoltare i tuoi brani preferiti in formato MP3, da memoria USB, microSD e collegare dispositivi esterni all'ingresso auxin. Non solo, grazie alla connessione Bluetooth anche da smartphone e tablet. Indicazione della funzione selezionata tramite illuminazione a LED sugli speaker. Ideale anche per chi ha poco spazio, la Sound Tower ti garantirà ottime prestazioni audio grazie ai due woofer, un tweeter e al sistema Bass Reflex. Grazie a tutti.